Per gli appassionati della montagna, arriva dalla Valle d'Aosta l'invito a comportamenti e atteggiamenti responsabili in montagna, sia che si tratti di alpinismo che di semplice escursionismo. In Valle d'Aosta esiste un coordinamento centrale unico che fa capo al numero di soccorso 112 e che risponde ad ogni emergenza. Cosa fare prima di una gita in montagna? Innanzitutto guardare con attenzione le previsioni meteorologiche. Consultare un bollettino meteo è sempre importante prima di andare in montagna, non solo per sapere se andare o non andare, ma proprio per pianificare l'escursione che andremo a fare sotto diversi punti di vista. La montagna infatti può avere tante sorprese, quindi conoscere il tempo sia in termini non solo di nuvolosità o di pioggia, piuttosto che temporali, ma anche di condizioni di visibilità, quindi nebbia o nuvole basse o meno, piuttosto che di temperature o i venti che possono causare una temperatura percepita di molto inferiore rispetto a quella effettivamente registrata sono tutti aspetti fondamentali per pianificare in maniera corretta la nostra escursione. Quindi suggerisco sempre di consultarlo almeno il giorno prima per quanto riguarda la parte previsionale e poi prima di partire di dare magari un occhio alle stazioni di monitoraggio che registrano il tempo effettivamente osservato in quel momento. Con il bel tempo si può partire sereni, ma attenzione a prendere una serie di precauzioni. Innanzitutto, basilare, seguire i sentieri battuti e marcati, avere un'idea del percorso da seguire, mai andare da soli, sempre essere in due, avere con sé un telefono cellulare. Dal punto di vista sanitario sarebbe bene avere un piccolo kit di pronto soccorso, fare molta attenzione alle pietraie, perché nella nostra valle, oltre agli splendidi panorami, ci sono anche le vipere. Dal punto di vista generale, partire sempre nelle ore più fresche, quindi al mattino, e mai avventurarsi nelle ore più calde. Se vi trovate in pericolo, chiamate l'112 112 e i soccorsi saranno attivati. Cosa vedere in montagna? La Valle d'Aosta è un unicum prezioso da amare e salvaguardare. La Valle d'Aosta è ricca di patrimonio naturalistico, di risorse naturali bellissime da vedere, e quindi quando ci inoltriamo nei boschi della Valle d'Aosta, ricordiamoci di non lasciare troppa traccia di quello che siamo noi. Non lasciamo rifiuti, non accendiamo fuochi, sia all'interno che nelle vicinanze di boschi. La flora in valle è veramente ricca, abbiamo delle specificità uniche sull'arco alpino, così come la fauna, fauna che può essere abbinata a un contesto anche culturale della Valle d'Aosta, dove è fantastico poter vedere volare un piccolo digipeto libero nel cielo della valle, con le montagne più alte d'Europa a fargli da sfondo. Però mi raccomando, anche sulla fauna cerchiamo di non disturbarla troppo, quindi se abbiamo dei cani teniamoceli vicini, teniamoceli al guinzaglio, di modo che possano passare un'estate molto tranquilla. E se qualcosa dovesse andare storto, i professionisti valdostani della montagna sono pronti ad intervenire in vostro soccorso. Delle eventualità in cui chiamate soccorso, sia che siate testimoni o coinvolti, intanto mantenete la calma perché spesso abbiamo delle chiamate dove l'interlocutore non ci dà il tempo di fare domande, quindi ascoltate domande che vi fa l'operatore. Successivamente le cose importanti da prevedere sono il luogo, la quota, se ci sono degli ostacoli per il volo aereo, tenete conto che dall'elicottero vedere un filo è difficilissimo, mentre da sotto vedere un filo verso il cielo voi lo vedete molto bene. Inoltre bisogna ricordarsi gli oggetti che volano, quindi un semplice cappello può volare nel rotore principale, crea dei problemi in serie all'elicottero e poi bisogna stare molto attenti anche ai segnali perché cosa succede? Soprattutto in estate ci sono escursionisti, uno chiede soccorso, noi andiamo e tutti ci salutano. Questo qui non è chiedere soccorso ma è salutare, però se in una valle tutti fanno così noi perdiamo un sacco di tempo, quindi questo è yes ho bisogno di soccorso, questo è non ho bisogno di soccorso, questo è salutare e succede che tutti salutano. Ok, questo è molto importante perché tutti gli anni succede che veramente perdiamo un sacco di minuti preziosi per il soccorso a cercare la persona giusta.